Inizieranno nel prossimo 16 luglio i lavori di restauro e risanamento conservativo di Ponte Buriano con la conseguente chiusura al traffico, stop alle auto che durerà circa un mese e mezzo. Il ponte sarà chiuso nelle fasi di consolidamento e i tecnici della provincia insieme al funzionario responsabile della soprintendenza hanno individuato gli interventi prioritari in modo da gestire il ripristino con una tempistica più veloce. Se non ci saranno contrattempi il ponte che si trova sulla provinciale uno dei sette punti dal chilometro 6,965 al chilometro 7,150 sarà riaperto al traffico tra fine agosto e i primi di settembre. Le immagini che stiamo vedendo sono state realizzate nella cosiddetta viabilità alternativa di Castelluccio questa volta non si dovrebbero verificare le problematiche dello scorso anno quando il manto stradale era in molte parti sconnesso. Sono stati infatti eseguiti dei lavori di manutenzione che hanno reso il tratto almeno in condizioni accettabili e in alcuni casi anche allargato. Ci sono stati ormai diverse riunioni interistituzionali per far sì anche che il percorso sia ben segnalato. Lavoreremo riducendo i tempi di chiusura e abbiamo valutato tutte le soluzioni alternative tra cui l'installazione di un ponte alternativo ma era troppo costoso, ha detto Gabriele Corei, consigliere provinciale con delega alla viabilità. Abbiamo chiesto alla ditta di raddoppiare le squadre di operai al lavoro per intensificare l'intervento entro circa 45 giorni. Crediamo di poter riaprire Ponte Buriano se le condizioni climatiche ce lo permetteranno dato che si va a lavorare in un alveo di un fiume. Ce la metteremo tutta.